Ritorniamo alle nostre origini, all'architettura oggi a DesignBook e all'architettura residenziale perché lo studio che abbiamo oggi ospite si occupa anche di architettura pubblica. Ovviamente oggi tareremo gli argomenti sul residenziale. Vediamo come vede Jacopo Zibardi l'ospite da noi in studio e poi andremo a conoscerlo dal vero subito dopo la sigla. Bene, dopo il ritratto di Jacopo Zibardi andiamo a conoscere Filippo Caprioglio. Grazie di essere con noi oggi, piacere, stretta di mano. Di solito non la facciamo ma è venuta bene, quindi la teniamo. Titolare dello studio associati. Sì, con mio padre e poi sviluppiamo con un altro nostro studio, con il nostro partner dei progetti. Lo studio appunto, non è uno studio specializzato, questo mi piace dirlo, trattiamo vari temi. Bene, oggi infatti vediamo residenziale, però trattate anche le architetture pubbliche. Avete appena realizzato, vuoi parlarne tu, un'opera visibile. Sì, è un'opera per noi importante, bravo, visibile, c'è un segno nel territorio. Un landmark. Un landmark, nel vero senso della parola. Questa era proprio l'idea e anche la volontà della committenza. Ed è appunto il casello chiamato Porta della Bassa Friulana. Due grandi ali strallate, questa è una cosa abbastanza unica rispetto ai classici caselli con le porte attaccate a terra. Invece queste sono due grandi ali asimmetriche in zinco titanio che strallano e appunto sono visibili veramente da grande, grande distanza. Beh, si ritorna all'estetica della porta, no? Assolutamente. Che doveva accogliere o salutare il viaggiatore. Questa era la cosa su cui si è partiti, basati, poi è stata sviluppata l'idea, che devo dire è matrice di mio padre iniziale e poi tutti all'interno dello studio, perché mi piace sempre dire che tutti i nostri progetti sono frutto di un lavoro di team. Poi avete fatto anche l'angar? Poi è stato fatto un po' di anni fa l'angar per le officine aeronavali all'aeroporto di Venezia. Sono stati recentemente anche inaugurato un municipio nel territorio veneto-friulano, a San Michele al Tagliamento. Sì, noi tra l'altro ci siamo conosciuti a Iesolo in occasione di Mayer della presentazione del Iesolo Village. Esatto. Collaborate con lo studio? Allora c'è una conoscenza, mi permette di dire con orgoglio anche un'amicizia e una collaborazione possibile in essere di cui anche per Scaramanzia adesso non parlo del tutto. Però comunque abbiamo dei contatti con gli Stati Uniti, sì, frutto anche delle mie personali esperienze americane, sia prima da studente e poi adesso... Quindi hai studiato architettura in Italia e poi hai fatto un master? Sì, sono lavorato a Venezia e poi dopo ho fatto un master alla Sirius University in progettazione e da lì poi questo mi ha aperto, devo dire, delle interessanti porte e ho continuato a insegnare per l'università lì e quindi spesso vivo là. Bene, andiamo a vedere allora i lavori dello studio in questo caso? Come tu hai detto, appunto ho scelto prevalentemente i lavori residenziali, questo è un lavoro a cui sono molto affezionato, un lavoro direi a quattro mani per quanto riguarda la concezione iniziale che poi invece nel cantiere ho sviluppato, ci troviamo nell'oltre Popavese. Ah, infatti si vede il fienile, no? Sì, questo è infatti chiamato la Cascina Guasca, un posto magico su una rocca con una vista quasi a 360 gradi sulla parte del Piacentino e sulla parte del Pavese e con una committenza, devo dire, straordinaria, una persona molto colta, un collezionista anche. Questo in particolare è proprio la parte dell'ex granaio della Cascina in cui, ecco, anche questa c'è la scala a doppia altezza che porta, avete visto, quella tessitura proprio dei mattoni che sono stati smontati uno a uno, ripuliti e rimontati. Quindi anche la fortuna di un architetti è trovare ancora le maestranze che sappiano fare queste cose. E anche il committente, beh, lì c'è anche un obbligo per il studio. Sì, qui c'era anche appunto un vincolo, però bisogna avere anche il committente che capisce, che sa e anche che appunto si fida, perché è un po' un mettersi nelle mani dell'architetto con cui si crea un rapporto speciale. Sì, effettivamente sono tanti i piani perché si vede da qui. Lì c'è il vestibolo del primo ingresso, poi c'è questo pianerotolo che conduce a quello che è l'appartamento del custode, che è un appartamento segreto all'interno della Cascina. Poi la possibilità di andare alla palestra che abbiamo visto prima, nell'immagine precedente, e salire ancora di sopra, sempre attraverso queste scale che sono un po' quasi un marchio del nostro studio. Lavoriamo tantissimo sull'elemento scalare, come si può vedere sono dei profili sottilissimi, portiamo al limite, ci avvaliamo di ottimi ingegneri, a cui anche forziamo la mano, ma questa idea di appendere gli elementi, tenerli più aerei possibili, fa parte proprio della ricerca della tettonica, dello studio. Agar, casello strallato, l'architettura è sospese. L'architettura è sospese e leggere, ecco, questo è nella parte residenziale della Cascina, vedi volutamente la differenza degli spazi qui tenuti più bassi, perché è proprio la parte della conversazione, è la parte che poi conduce. Una volta anche per questioni di riscaldamento, non ci servivano le idee di risparmio energetico. Giustissimo, qui quello che devo dire a cui siamo sempre attenti è anche però la necessità di introdurre un piano ulteriore rispetto a quelli che erano all'inizio nel corpo domestico, e quindi abbiamo ribassato. E poi la scala ancora una volta sempre con la stessa matrice, seppur con pedata di materiale diverso, perché anche l'attenzione a tutti i singoli elementi, nella cascina c'era in vetro, mentre qui continua il legno per dare proprio un segno anche di più, di maggior calore, conduce. Questa invece è la parte che credo tutti vorremmo avere, perché è la parte del relax sopra la camera matrimoniale. Con finestra a tetto, catè. Il tetto è stato rifatto? Il tetto è stato completamente rifatto, però è stato rifatto in maniera anche perché appunto c'era quel vincolo, diciamo, d'uso di materiale tradizionale, però con l'introduzione appunto delle capriate, che sono come vedi leggerissime, degli elementi di disegno originale proprio, queste catene che si librano proprio nell'area e danno questo senso di leggerezza. Questo è proprio ferro puro trafilato e verniciato, volutamente proprio tenuto al grezzo quello che il ferro esce appena lavorato. Certo, poi qui comunque il tondino è presente in qualche modo. Sì, assolutamente, assolutamente. Per cui ci sono dei richiami anche proprio visivi, no? Sì, certo, certo. Ecco, uno degli problemi di questi, io ho vissuto per tanti anni una mansarda, è proprio l'illuminazione. Io qui vedo degli spot, adesso poi mi spiegherai meglio tu, a parte questa luce zenitale, diciamo, delle finestre a tetto, però è difficile normalmente illuminare questi spazi, poi soprattutto con una tessitura del tetto scura, fosse chiara magari. Sì, infatti qui è una scelta un po' in controtendenza. Vero è che lo spazio qui è molto grande, perché sono circa un'ottantina di metri quadri solo questo spazio, quindi voglio dire quasi un appartamento. Però l'illuminazione è fosse da terra in questi casi. L'illuminazione la possiamo usare sia perimetralmente, sia, come tu hai giustamente notato, in questi spot, qui ne vedi accesi solo due, però sono inseriti nella muratura e sono nascosti. In un esempio che vedremo più avanti, c'è stata un po' l'evoluzione di questo, che è un progetto più avanti e avanti, in cui adesso la tecnologia LED ci ha aiutato, anche potendone inserire molti di più, essendo molto piccoli, proprio scompaiono nella muratura, e quindi possiamo creare i vari scenari. Poi qui le candele vengono accese intorno alla valla. Anche quelle profumate. Questo è un progetto radicalmente diverso, ma a cui comunque sono affezionato, e anche qui ho fatto sia con mio padre che con il nostro partner, l'architetto Vatta, in cui il tema era molto complicato, perché questo, come si vede a destra e a sinistra di questo nostro intervento, in total white, con questa forma dinamica sulla strada principale, che proprio sta a significare la presenza di un nuovo intervento, doveva... Ex novo. Ex novo, ex novo. Questa è una casa, sono tre edifici in cooperativa, quindi edilizia che una volta si chiamava economica popolare, noi invece abbiamo voluto dimostrare che si può fare una buona architettura anche con dei budget limitati. La cosa bella è che... Se il progetto è buono, ovviamente. Se il progetto è buono, così sembra essere stato, perché qui non abbiamo avuto un committente, ma ne abbiamo avuti 33, cioè uno per ogni appartamento. E con loro abbiamo sviluppato tutte le dinamiche... Sono delle stecche, quindi? Sono due edifici lineari, e poi lo vediamo nella slide successiva, l'ultimo corpo, che è un corpo a schiera, e come vedi, anche questo è proprio parte del ragionamento che sempre cerchiamo di lavorare in studio, cioè di lavorare anche per volumi, per superfici, per addizioni e sottrazioni, come immaginare... E anche abachi di materiali ben definite, perché è ferro, muro, cemento. Bravo, ferro, legno e cemento. Sì, tre materiali, non di più. Grazie a tutti.